per poter ombreggiare tutti i pannelli solari per evitare che il sole venga ingiustamente giustamente sfruttato dopo crisis case parisa così da marco arriva un fan serie 300 come giusto ridere full optional così del nulla una cabina nuova per 980 10.000 euro full optional è un attimo provano confiabile reale per sono le piccole e non escezioni non profit per una selezione culturale perché nel 2004 non è stato richiesto allora la volta è fare un'associazione che crede tutti e ti sicuro che sopportano di skate f è un'associazione che praticamente teghe dei skate ai bottini all'africa si sta sicuro che la gente schia te ne da sempre e dopo ovviamente fanno tutte le situazioni gli schiai ti mani fuori a t e non rive niente l'aureo costi della carta da culo del studio calendario porno lui ha fatto e pose dei primi 3 4 mesi ma che schifo ma come ha bisogno di un altro per il da poter fotografare perché ormai il suo guarda quel flash sui segga addirittura bronza e se era rinsecchio insomma se va un po' rinsecchio si e anche in zebedei se va un po' fatto come come di i ficchi che dico più che se va un po' rinsecchio e caramellate si si segga a caramellare nel frattempo poca da crema ti sia a posto quindi volevo sentire un attimo matti cosa che hai dato a dire No, non mi esprimo. A riguardo... Non mi ricordo più. E che hai detto? Dai, esponi la tua... Cioè, dopo che mi te apro il discorso, un po' po' ricamo, Amaco, esponi la tua idea, no? Eh, perchè vedo cose che girano? No, non rivolgo nessuno. Ah, adesso non fai evitare. La famosa marmitta acquistata errata. Dai, che dopo partiamo. No, beh, evitare il casincio di fanclub, quel che ha, ho fatto il post che esplicitò, molto esplicitamente le date del martedì Bernardi Farming, Sabo, CS, Domenega e CS. Il calendario che ho fatto le prime tre foto porno. Però, come che ti ho detto prima, che ho bisogno di un altro pene, un altro soggetto per i prossimi mesi. Perchè non mi basta che c'è massa mesi. Eeeh, cosa succede? Il tuo, forza di fare fotografie, sia un po' flusciare, che ha bisogno di un altro un altro picco. Metto a disposizione. Eh, non mi è tanto grande, quindi passi dicembre, chiusi a snuire, che sia prato e ora... Ok. Ok, ora devo mettermi sui mesi invernali. Va benissimo. Che troia... È quel disagio, ragazzi. Vabbè, è sempre stato quel disagio. Io non l'ho messo e rimettato mai così tanto. Bene. Il disagio. Questa puntata si chiama puntata penosa. Ma hai ancora altri discorsi... ...discorsi del cazzo. No, Mati che ha fatto un calendario per i giorni che versiamo farming... Non l'ho visto. Server free e... Io l'ho visto la storia. E quindi? Niente. Ti devi a dirte, Marco? Ah, non basta. Marco. Ehi. Aspetta che c'è una roba la che... Che ti aveva dito mi da dire che... C'è che copra il DJ che è il proprietario del campo due... Cazze mazze. Ehi. Ehm... Visto. Visto. C'è... 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 C'è la sigla del calendario, madre. Esatto. C'è... 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 Senti, senti... Senti... Immagina te, madre, che si deve fare il mestiere. Beh, comunque ci sta bene, eh. Ma ogni colpo di... Un colpo che si sposta al membro? Esatto. Esatto. Ah, io pensavo a una donna nuda. Non pensavo a una roba che si muoveva. Che schifo! Non, non, non. Non, 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 non... Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 no. Che schifo! Ah, ah! A me ma... Ah, 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 ah! Di stuprate, ah, ah, ah ah! Brazzi! Si sė, a machina! Che schifo! ...ah! Ah, ah! Si sė era quel? Ah, ah! Asologino! Adtesi, vediamo marchini... Ah, ah 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 ah.. cattato il graxol ahahahah cattata ahahahahah mamma mia adesso la sono sincroterno adesso sto qua amare in casa 10 volte non vengo a catturre il culo colpa di nico cazzo non cattare a suonare porca cattata ma come anche le mie appunto mamma mia marco buon natale ma comunque adesso poi la che metto la connessione deve andare meglio in teoria bene ragazzi questo è il 645esimo giorno di cena ehm le cose che suona ci sono ancora 6.000 soffie al giorno quindi marco va di corpo costantemente che metto così tanto tu non sei oh miracolo no marco ci sono 6.000 morti al giorno non per coronavirus ma perché si stanno ammazzando a forza di sentire questo claccio esatto perché veramente mi ha spagato i timpani sono lì tutti picciglio picciglio a manetta andiamo che sfiga di merda fermo fermi 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 non mi muove non è successo non è successo non è successo una cosa mai successo hai sbagliato il tasto marco no 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 è successo hai perso la connessione del gioco anche me questa roba qui è legata fino alla merda come prima scusa se tutto mandava marco questa è la lacina comunque avevi più pacemaker di 30 devi diminuì perché il segreto smetterà ah sì 10 degli ultimi giorni capisci 10 degli 99 ti fa il suo con i punti del supermercato eh posso fare una caspita con quei in omaggio con il gito bypass e pirofila esatto sì con i supermercati ti dà un peso meglio in omaggio però amico che non siete quei cinesi se no te in cura perché vado una palla con le gambe? vado un po' xd come sei un teatro in tutti xd 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 esatto anche su farmi che passano xd xd guarda un po' guarda un po' guarda un po' Dio la voglia finire ma quanto vede a tagliare l'erba? 26 Marco se ti disegni tutto il coso con l'erba da tagliare ha fatto mia prima adesso che vai torno e scarico un piede d'erba e va che? adesso di perdermi l'erba perché faccio tagliare ma io non so poi mica ce l'ho qua ah Dio l'erba è vacca canca lo maledetto go 156 maschi si moriva io voglio mangiare a fare dei lupi va bene quando mi ha le due 6 un attimo invece mi ammalco a 50.000 euro posso venderli però metto una stro... no no cazzo no ma fa il culo si si lentamente mi sono cappottato si matti la prima balla è di fieno no non ce l'ha fatto a sgrizzarti si perchè lui ti cazzo ha fatto film sui tuoi campi vedo che è diversa questa guarda va bene va bene va bene va bene va bene mi raccomando mandami una foto così vede la differenza va bene va bene tra l'altro Marco ha detto aspetta che ti mando la foto così capisci meglio ah no è vero che coglione ma anche tutto quanto nel video ignorante anche uno l'ha anche fatto notare uno no no ancora no basta nooo ma la situazione si è ripartata eeeh si è ripartata anche a me infatti che f***o furaio no è mio problema no bo separa dai scarica separa che i bionni ha oh via ho visto niente separa che i bionni ahahah come cazzo la volta si vede che sei il foraglio e vada a scaricarle giuste adesso ahahah si proprio impegnate impegnate ahahah si è venuta ai pulpi oculari a piena potenza ahahah ahahah vado a andare sotto ahahah no ahahah dai ahahah e ora qui i gialli si faia eeeh eeeh verde chiaro si f***o ecco ma ti manda una foto ahahah che ti scrivo così ti capisco si che si sa pello io non vedo un cazzo e stesso è rocchamente oh lagga 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 ah ok allora non sono solo io cazzo Ancora, 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 ancora Però fa 40 ping Esatto, anch'io la stessa roba 30 ping A me non me li aga a me niente Agri, agri Agri Ma che sta venendo finta Si sente, non sei credibile Anche adesso lag Si, adesso me li aga a me Aga a me, è il server Marco salvo finchè poi Ahi, ragazzi che problema Vabbè, bionis e bionis Sì, siete qua odiati No, no, vale che sia Sì, appostare il giusto Sì, beh adesso non penso sia tanto fattibile Giocare con lag estremo così Sì, vabbè che vengo a vedere E resto veloce, nico scarico Puri sul silio, sbaglio Si, ma ora che arrivo in te campo, faccio l'ora No, Marco, ho scoperto una tecnologia Oh, finalmente è un'ora No, 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 no No, 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 no Effettivamente però E ora Che roba Qua anche se un pallone sbaglià Questo Eh vabbè che lì sei normale Questo Oh, cazzo mi sono cappottato Questa quasi Questa quasi spaglia Vabbè Sì, volevo metterlo un attimo Ehi In suggestione In suggestione Per farlo riflettere Eh, eh, eh Eh, effettivamente Eh, effettivamente Beh, vada bene Devi sbrizzi così No, no, no Questa Questa seppaglia Sì, infatti effettivamente Ti ho visto il colore Questa seppaglia più secca Eh, sì, bello Arone, cosa fai con i rimorchi? Mi Allora, se questa qua le fai Ah, no, no Questo è il trattore nostro Arone, avanti, dai Ah, ma è un po' di qua Poi, anche perché E' un po' di erba Incavolata Eh, eh E' un po' di tassi Lei ha fatto Iniziamo fuori a peso Perchè ti hai bagno in maria? Perchè pensavo di tagliare Vada, vada il trabicolo Seppaglia si capotò con niente Vaga misteri Già sì, fa finta di essere gay Questo Oh, guardate Beh, me Non sono gay Marco è gay Beh, mi penso che si Tutti i due Ah, che ti tutti quanti Eeeh Bencio Eh, Mico Rispondi in modo da guardare qui Qua Qua ormai bisogna guardare Un'impianta giovede più in occhi Ahahah Ahahah Marco sì Vado a vedere i fenoci E gli ortoghani E gli ortoghani Ti tirano a peare Ahahah Mi domanda ancora Perchè Se temo a seminare Al frumento Esorgo tutti i fenoci Che vedete qua Ahahah E farà tutti i campi di mai Eh beh Perchè come ho triceto Quanto tempo No Quando sarò da fare triceto Te vedi panoccia a manetta Ahahah C'hai n'osemia Per fare gli echin Ahahah No Vedi mio Ragazzi mille Te avrai premiato Oh Com'è Eh Una bella panoccia Ahahah Ahahah E ora sarà meglio Sentiamo di voi Ahahah Ahahah Un cattato a Marco Ma uno Torno biè Già No Di teramico Un uovo UnOnuncci Un minuto Un minuto Un uovo wingas Un minuto Capito un uovo? Ma va, non le pesa niente. Un uovo, se... ...e peserà... ...e peserà quanto il tuo telefono? No, ma capito il telefono. No, il fatto che... Sì, ma neanche ho fisso che cattolone... ...e... 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 Sì, esatto, quel coro d'è. Perciamare al 118... ...è quasi ora a morire. E giri attorno... ...drr... ...drr... Sì, ma è bello che i telefoni adesso durano un anno e mezzo. I telefoni del cazzo durano... ...e... ...e... ...infatti... ...e... 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 ... ... ... vorrei che facessi qualcosa non c'è fatica a che tempo dove c'era manda avanti perché chi ne ha pucchi adesso che hai guarda, paghini ancora appunto, il SAR che non lo ha fatto non lo ha sistemato, ma tutto lo ha fatto lui con l'Agostini di Agostini che faceva le uscite per assemblar una roba tipo la macchina di comandato o altre robe e quando uscite si esatto, che fa finire un anno di attesa con tutti i tocchi che uscivi in elicola poi anche a doppi, magari avevi 4 robe 8 volanti 10 parafanghi però a te mancava magari proprio il figlio con l'Ucita e il portabotteria altrimenti ti cattai con una roda, un parafango sinistro, una portiera a destra e il parabresa da DRI e con questo abbiamo concluso grazie dell'attenzione e arrivederci bella raga grazie grazie grazie